ok pure qua ci stanno i flash non pensavo visto che era semplicemente un appuntamento con Sayori ma che cazzo ma a posto del team salvato c'è questo qua Sayori ditti mi ti eri aspettato sono Sayori è arrivato il Whip Count e dopo una stressante giornata di scuola posso finalmente andare a casa e riposarmi oh che cazzo vuole ciao Sayori perché stai correndo così veloce correndo perché stavo correndo sì perché incredibile stai bene? sì sto a posto stai sicurissima eh che vuoi mo? ah devi fare qualcosa domani? non lo so perché che cazzo vuoi? ebbè che facciamo diamo il DDP a Sayori eh no andiamo a questo appuntamento andiamo al parco andiamo al parco ah il tempo di andare a dormire questo è proprio un pigrone esagerato un appuntamento con 6 ore ah qua sono ancora amici quindi non sono fidanzato ah pensavo di essere introdotto in la nostra stanza una grande palla oh ok eh ripostate ripostate penso che uscirà la morte di Sayori e abbiamo capito eh diamo a mano che va oh what ma non esce la morte per forza per forza capito già con la fine che balle però porca miseria Sayori maleditta ronna raga ce la posso fa ma distrutto ha un infarto ma perché ha schippato eh andiamo all'appuntamento che divertimento che divertimento altro jumpscare ah oh è così bello oggi no certo certo che pure il protagonista non è stia proprio posto in cervella ma che cazzo ma che cazzo hanno creato sì come si come si è cioè io devo cliccare a ripetizione per uscire da quei trip no raga è inquietantissimo eh mezza la foresta vabbè sta modendo la dove e cala e cala raga è inquietantissima questa mod inquietantissima proprio devastante c'è proprio la pelle toga raga c'è la pelle toga ciao ciao ok ma comunque è stata inquietantissima venator ce devo andare da lei oddio no non ci voglio andare monica c'è secca monica porca miseria ma non ho capito queste se me le le va da solo io prima cliccando a raffica prima si è tolta ma non ho capito niente niente secondo me me la devo guardare tutto ok vieni guarda vabbè guardiamo un film che film doki doki leak territory club si chiama era il film ma che aveva detto bigotte bigotte io dovevo vedere Godzilla con lei ecco ecco bellissimo il film sento nervoso eh quella con Zayori non ti conviene non te lo consiglio proprio devo confessare le cose che vuoi confessare quelle le pods ehi vabbè quando arrivo al jumpscare mo cosa che weed lo sapevo lo sapevo maleditta maledittissima Tayori ehi che ricevemo madonna raga inquietantissima sta cosa addio che altra cosa madonna mi la pelle toga vera questo è un jumpscare in primo piano come non ti ho salvato che alla fine ti ho salvato vabbè di ah ok jumpscare no va bene che cosa sta facendo ma che ha fatto si è messa come amministratrice che ha fatto tipo i poteri di monica che aveva questa è un po' esagerata sai ori c'è addirittura il potere di un dio ma chi ti credi di essere qualche altra cosa ammazzami che tenevo di può bere ci vuole bere sai ori ci vuole bere signori ah capisco e quindi per quanto mi deve torturare ancora che sta facendo a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi aspetto un jumpscare sul finale. Grazie a tutti. Ah, si ti tolgo lì di coda? Ah, sei chiuso così. Capisco. Beh, mi fa piacere che almeno così non ho avuto altri jumpscare. Carino, vuoi dire la verità carino? Mi ha sorpreso. Non poco.